I 400 richiedenti asilo politico accolti nelle strutture del Santa Rita e in quelle di Pannerose avranno un tetto fino al 31 marzo. Le due cooperative, insieme alla Prefettura, hanno infatti raggiunto l'accordo per una soluzione ponte che durerà sei mesi, scongiurando così una possibile emergenza sociale. Seconda proroga dunque, con tutti i criteri previsti dalla vecchia Convenzione, gestione dei servizi educativi e sanitari e niente uso di biancherie e apparecchiature monouso. Per le cooperative Eccoci, l'Umbra Aurora e la Croce Rossa, che invece hanno partecipato al bando, restano validi nuovi criteri di assegnazione. Siamo contenti che si sia raggiunto un accordo, ha spiegato Roberto Macri, presidente della Fondazione Santa Rita. È la soluzione migliore per evitare che 400 persone si trovino per strada. Tuttavia, speriamo che da qui a marzo siano ridefiniti i criteri per l'accoglienza. Alla base della rinuncia delle due importanti cooperative di partecipare al nuovo bando, il disaccordo su un'idea di accoglienza che escluda tutta la parte educativa, ma anche i nuovi criteri sanitari nell'ottica di controllare meglio le spese. Siamo soddisfatti, soprattutto rispetto alle proposte fatte nell'ultimo bando, ha spiegato Marco Paolicchi, presidente di Panerose, perché viene riconosciuta un'accoglienza a confini educativi.